bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale di GeneticDNA e faccio questo video per appunto ringraziare tutti quelli che mi seguono e commentano eccetera eccetera poi voglio chiedere comunque scusa un po' per i ritardi che sto avendo nel mettere i video ma comunque come sapete con le nuove regole sul copyright di youtube sto riguardando un po' tutti i video in modo da evitare problemi ho dovuto già togliere una puntata di Beyond perché mi aveva messo il blocco mondiale quindi c'avevo il bollino quello rosso quindi ho dovuto toglierlo per forza che era quella missione in Medio Oriente comunque niente e voglio ringraziarvi come ho detto e voglio fare a tutti voi gli auguri di un buon Natale spero che lo passate bene con le vostre famiglie, parenti eccetera mangiate tanto, bevete tanto, giocate tanto e niente se poi volete voglio farmi un po' gli affari vostri se mi mettete nei commenti che cosa avete ricevuto per Natale così almeno vi faccio un po' i cazzi vostri e niente io come ho già messo sulla mia pagina facebook per Natale mi sono fatto un autoregalo mi sono preso ho prenotato la play 4 che arriverà a febbraio quindi aspettiamola quindi ancora un grazie di cuore a tutti e un augurio di buon Natale a voi e alle vostre famiglie e niente ci vediamo ai prossimi video spero di continuare a mettere gameplay un po' più lunghi un po' più frequenti e niente alla prossima ciao ciao a tutti e auguri da GeneticDNA ciao